Roma, 27 marzo, la presse, novità sul prossimo CT dell'Italia, lasciamo finire questa seconda partita di viaggio che se lo merita. Dobbiamo scegliere con grande serenità, senza escludere nessuno di quelli che sono in ballo. Lo ha detto Roberto Fabricini, commissario della FIGC, a margine dell'Assemblea dei Club Europei, ECA, in corso a Roma. Su un possibile passaggio di conte al PSG il dirigente spiega, questo lo leggiamo sui giornali, loro hanno dei contratti in essere e non dobbiamo interferire per una diplomazia internazionale necessaria, poi ha aggiunto valuteremo la figura che sarà disponibile. Ricordo inoltre che c'è un aspetto di tipo finanziario che deve essere rispettato. Ricordo inoltre che c'è un aspetto di tipo finanziario che deve essere rispettato.